. Nelle prime ore della giornata odierna, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli. Direzione distrittuale antimafia, nelle province di Caserta Eterni, i carabinieri del reparto territoriale di Avesa hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di associazione mafiosa estera. La torsione, con l'aggravante del metodo mofioso, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, nei confronti di 11 persone appartenenti al clan dei Casalesi, fazione schiavone, operante nell'agro Aversano. L'indagine, condotta dall'ottobre 2012 a maggio 2013 dal nucleo operativo del reparto territoriale di Aversa anche attraverso intercettazioni telefoniche, ha consentito di ricostruire l'uomo assetto geocriminale del sodalizio, venutosi a creare il seguito alla disarticolazione del gruppo misto Venosa-Reccia, con l'individuazione di un uomo capo e dei referenti locali. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS